Sono Irene Caputo e da circa 10 anni seguo un percorso di crescita personale e professionale iniziato ad Amsterdam e concretizzato nell'apertura di un caldo abbraccio centro per il benessere della persona. Mi occupo di comunicazione empatica, massaggio infantile, baby wearing e mindfulness. Sono madre di un bambino di 10 anni con cui sperimento quotidianamente gli strumenti di comunicazione empatica. La comunicazione empatica è un linguaggio naturale ideato da Marshall Rosenberg che permette di migliorare la relazione con noi stessi e gli altri. Nella comunicazione empatica si apre un dialogo profondo di ascolto dal cuore e di connessione autentica. Organizzo workshop teorico-pratici rivolti prevalentemente a genitori e educatori in cui si ha un'esperienza diretta di questa connessione. Durante i corsi diamo valore ai sentimenti e bisogni di ognuno di noi e impariamo a esprimerli con un linguaggio chiaro, preciso e creativo. quando impariamo a comunicare in maniera assertiva risparmiamo energia che possiamo utilizzare per le cose belle della vita. è bellissimo durante il corso poter scambiare con gli altri genitori la propria esperienza di vita e trovare con creatività dei punti di incontro con i propri figli. tramite questo lavoro cerchiamo di risolvere concretamente i problemi di comunicazione attraverso lavori corporei e creativi entriamo in contatto con la nostra intenzione, il desiderio di connetterci con noi stessi e con l'altro mettendo sul tavolo i bisogni di tutti. preferisci avere ragioni o essere felice? Grazie per la visione! Grazie! 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 Grazie!